Grazie Presidente, cercherò di essere breve, purtroppo, perché piacerebbe anche a me parlare della questione di nido ad anche oraggio, però le problemi che mi hanno ricevuto hanno fatto degli interventi molto compiuti, molto ampi, molto articolati, testimonianza anche di riflessioni fatte in questi anni, non sicuramente all'ultimo momento. Fra l'altro abbiamo discusso qua dell'argomento molto spesso anche in occasione dei bilanci preventivi e devo dire che rispetto agli interventi che mi hanno preceduto non ho veramente nulla da aggiungere, sono d'accordo sul discorso degli orari, delle tariffe, su tutto qua. Vorrei attenermi più al discorso che andiamo a discutere, alla delibera che andiamo a discutere stasera, certo, penso ai criteri di ammissione, non perché non sia importante, anzi ringrazio i colleghi che l'hanno fatto prima di me, ma perché non è stato trattato un punto che devo dire con rammarico dovrò trattare per forza di cose e che non mi trovo purtroppo d'accordo rispetto invece a un lavoro di insieme di questa delibera che mi è molto piaciuto, nel senso che proprio non ho potuto partecipare alla commissione, ma non ho avuto una visita specialistica a Prato o a Città e quindi mi scurro. Ma anche leggendolo ho trovato che effettivamente l'amministrazione comunale ha riflettuto molto, ha lavorato molto proprio per dare, come si diceva prima, la possibilità alle famiglie di avere dei criteri di accesso più equi per tutti, quindi dare una maggiore, come si può dire, pari opportunità a tutti di accesso alle attività. L'unico punto su cui mi sono soffermata e ho dovuto per forza riflettere e quello riguardante la quota massima che viene fissata per i bambini figli di migranti. Mi sono soffermata a riflettere, fra l'altro io pensavo veramente, sarà anche una tarda, sarà che manca un anno e mezzo la scadenza, sarà che sono tanti anni che sei qui, ma certe volte mi trovo in imbarazzo a dover essere sola a trattare determinati argomenti perché mi dispiace veramente che poi si pensi che si tratta soltanto di una valutazione ideologica. Io spero in tutti questi anni di aver dato prova veramente della mia autonomia rispetto a una valutazione molto autonoma e se vogliamo definirla ideologica ritengo che possa semplicemente rappresentare il fatto che è una persona delle idee e che le porta avanti semplicemente. Io mi sono soffermata a fare questa valutazione rispetto al detto massimo che viene posto nei confronti dei bambini, prima di tutto anche perché nel dibattito riuscito sul giornale la prima domanda che mi è così salita, che mi è apparsa è quella di chiedermi perché vengono ad esempio definiti bambini stranieri, cioè noi stiamo parlando non di scuole elementari o scuole medie ma stiamo parlando di asilio, quindi è importante mettere in evidenza questa questione, nel senso che stiamo parlando di nuovi nati, di bambini che nascono in Italia, figli, migranti ma sono pur sempre bambini che nascono qui. Allora dobbiamo, secondo me è un dovere anche, cercare di distinguere rispetto a una riflessione che dobbiamo fare su questo, rispetto a bambini che hanno un vissuto di migrazione, quindi che hanno dovuto passare e viaggiare dal paese all'altro, quindi passare da una cultura e da un vissuto di un paese verso un altro, da bambini che comunque nascono qui. Allora io mi chiedo qual è la valutazione rispetto alla diversità dei bisogni tra i nati qui e gli arrivati qui con un regresso trascorso nel paese di Bici. In più mi chiedo anche, rispetto ai nostri asili nido, in cui abbiamo detto sempre, trasversalmente, abbiamo riconosciuto sempre, in maniera trasversale, l'altra qualità educativa di questi asili, proprio nella città di Bambini, quindi l'elevata capacità anche rispetto al livello educativo del corpo insegnante di poter far fronte a questo tipo di particolarità. E mi chiedo appunto, rispetto all'asilo nido, perché ripeto, se stessimo parlando di scuole elementari o scuole medie, qual è il tutto altro intervento? Ma rispetto agli asili nido, quali sono gli interventi specifici per i bimbi di figli di migranti nati qui, piuttosto che di figli di famiglie autotone? Cioè, qual è la sostanziale differenza? E quali sono gli interventi specifici per poter permettere questa integrazione? Stiamo parlando di neonati? Allora, tra l'altro, queste quesiti che mi sono poste in perfetta solitudine, cioè nel senso che è una questione che mi è sorta veramente nella mia testa leggendo il testo della delibera, non ho subito pressione di alcun genere da parte di nessuno, sono andata a vedere se in altri comuni effettivamente rispetto a un percentuale migranti che si avvicina alla nostra, quali interventi sono stati fatti. E il comune di Torino, che io tra l'altro frequento la città di Torino molto spesso per motivi di amicizie legate di tutti, vado spesso a Porta Palazzo, frequento con altre persone che lavorano con artisti internationali, che lavorano con i rifugiati già un po' per giorni, con l'associazione più grande della città, e vedo che comunque il comune di Torino rispetto al problema relativo ad una scuola proprio elementare, non ad un asilo nido, dove avevano anche un'accentuale artistica di migranti, si sono trovati in fronte a problemi a cui alcune famiglie di autotone non volevano più portare, iscrivere a scuola e poi a scuola i propri figli, gli interventi non sono stati fatti, non è stata presa neanche minimamente in considerazione la questione della storia massa, ma sono stati fatti altri interventi, sono qui, basta andare sul sito, adesso non sono stati fatti, altri interventi che non sono comunque, che non riguardano una posizione drastica come questa, perché dico drastica? Perché rispetto all'evento della percentuale che è stata fatta prima dall'assessore, diceva rispecchiare la situazione della città, i morinanti da famiglie di migranti sono il 25%, ogni classe non deve superare il 25%, sappiamo che poi può succedere che non sia così, può che succedere che la soglia sia inferiore al 25% e quindi nessuno viene... Grazie 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 Grazie